Allora, sì, signor sindaco? Sì, sì, la sento bene. Ah, mi sente bene. Noi una volta ci siamo visti, tanto tempo fa, ero con mamma io. Vabbè, ovviamente forse voi neanche ve lo ricordate più perché è passato un sacco di tempo. Se mi dice dove ci siamo incontrati mi aiuta. Vicino angolo, cioè non proprio angolo, di fronte al teatro Petruzzelli ci siamo visti. che lei mi ha salutato. Attraversando la strada? Io stavo attraversando la strada e lei era sul marciapiede del Petruzzelli? No, no, stavo attraversando, no che stavo attraversando, stava con la macchina, lei aveva una macchina nera. Aveva una macchina nera con sua moglie. Perfetto, e quindi? E quindi niente, quindi alla fine io vorrei, volevo parlare con lei un pochettino anche per capire bene. E io mi sono fermato per parlare con lei? No, non si è fermato per parlare con lei, abbiamo soltanto parlato di sfuggita, niente di che. Allora mi sarò fermato, non penso che sono passato parlando. No, lei stava in macchina e al che ho detto, questo è il signor sindaco a mia madre. Ho capito. Vabbè, è stata un'occasione così, ci siamo incontrati così. Ho capito, ma lei di che cosa si occupa? Che lavoro fa o vorrebbe fare? Allora, praticamente vorrei fare il barman. E le viene difficile? No, non è che mi viene difficile, non trovo riscontro perché sto iniziando questo corso, al che mi dicono prima di imparare così con la collia, ovviamente il mio sogno è quello di fare il barman, però anche se non lo dovessi fare, anche il lavapiatti mi andrebbe bene, comunque come lavoro. Ma i sogni non bisogna mai rinunciare però. No, ma se lei impara a fare il barman, guardi che il lavoro lo trova, più scende, più il lavoro è dequalificato, più è difficile trovarlo, più è qualificato, più è facile trovarlo. Certo, signor sindaco, però ovviamente, io volevo chiedere anche un'altra informazione, però sentirebbero un po' tutti quanti la nostra conversazione, però fa niente, ce la diciamo tra noi, va? Ce la possiamo dire tra noi? Guardi, io parlo sempre in pubblico. Tutto quello che mi succede è pubblico. Sì, ce la posso dire? Beh, se non è niente di strettamente personale, lo dico chiaramente per la sua priva, sì. No, 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 dovevo soltanto dirle una cosa, se magari tutta a Bari può mettermi una parola per un programma televisivo, tutto qua, niente di che. Cioè, ha bisogno di essere votato su Facebook o sul... No, bisogno di andare a un programma, insomma, di Canale 5, che mi piace molto. E quale? Uomini e donne. E bisogna che la si voti? Che dobbiamo fare noi? Cioè, no, non è che... Cioè, c'è qualcuno che può aiutarla? No, magari potete metterci una parola. Una raccomandazione, insomma. Una raccomandazione. E non lo so se ho questa possibilità, però tutta a Bari farà il tifo per lei, ne sono certo. Questo sicuramente sì. Guardi, noi purtroppo non riusciamo ad arrivare, almeno io non riesco ad arrivare a De Filippi, però magari possiamo mettere una sedia... Forse la signora Alessandra è più addentro alle questioni televisive. No, magari possiamo mettere una sedia qua e fare uomini e donne per un giorno. Grazie, grazie per il suo intervento. Beh, comunque le conviene mandare il curriculum, ci sarà sicuramente l'indirizzo e chissà, magari la chiameranno tanti baresi, del resto si sono affermati anche sul piccolo schermo di uomini e donne, quindi può essere quello una volata per il successo. Allora, 080 501 9998 per intervenire in diretta, andiamo avanti perché parliamo di una bella notizia. Intanto sono iniziate da oggi le operazioni di pulizia da parte del Nambio, delle spiagge cittadine, perché si vuole garantire a tutti i cittadini baresi trascorrere le festività pasquali e arriva al mare. Beh, innanzitutto abbiamo fatto un'ordinanza perché ci sia un tempo buono, mi dicono che le previsioni non sono proprio un gran che... Non tanto, noi li forse miglioriamo. Spero che sia un'ordinanza che... sto scherzando ovviamente, spero che ci sia un buon tempo, che si possa anche volendo stare un pochino sulla spiaggia. In ogni caso dare una pulita alle spiagge è sempre una buona cosa, anche se noi durante l'inverno, visto che le mareggiate sono frequentissime e il mare è pieno di rifiuti, ovviamente le pulizie delle spiagge, che sono quotidiane durante i mesi estivi, a partire credo da metà maggio, primi di giugno, abbiamo fatto questa pulizia straordinaria. Oggi veramente mi hanno chiamato da San Girolamo, anche perché ho chiesto all'AMIU se hanno un po' di tempo in più, di dare una pulitina anche alle spiagge, quella, la spiaggetta accanto a San Francesco e a quella del canalone di San Girolamo. E anche quelle prospicenti tutto il quartiere. Naturalmente sono operazioni particolarmente costose quelle delle pulizie delle spiagge e siccome in questo periodo dobbiamo farle col personale ordinario, è chiaro che se puliamo le spiagge poi non c'è il personale per pulire la città in modo adeguato. Parleremo anche di un'altra novità che riguarda sempre le spiagge cittadine, in particolare Torre Quetta, un bando di gara che uscirà a fine mese. Ne parliamo tra pochissimo, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera Sportelli. Sì, salve. Buonasera. Sede, volevo complimentarmi con il suo sindaco per la sua espressione che ha avuto in volta a quel fatto del pesce. Lei non si deve preoccupare perché un regalo fa piacere a tutti averlo, prima di tutto. Poi volevo sapere un'altra cosa, è vero che ci sarà un altro bando di concorso per le case popolari? Sì, è vero e verrà pubblicato peraltro tra pochissimo. Va bene, la ringrazio. Ma soprattutto ci sono le case popolari, questa è la cosa più importante, non è solo il bando. In questo quartiere nuovo che sta nascendo a Iapigia, più i due PIRP, quello di San Marcello e quello di Iapigia, insomma ci sono moltissime case, anche popolari, per cui esistono delle possibilità di entrare in graduatoria più elevate che in passato. In questo momento in cui si fa una gran fatica a pagare il fitto di casa, soprattutto da parte di chi non ha redditi sufficienti, mi auguro che questa sia una buona notizia. Ovviamente tutte le cose che il Comune fa sono come i semi che si piantano e poi nascono poco per volta, non c'è nulla che appaia d'improvviso, solo le disgrazie arrivano d'improvviso. Speriamo che non arrivino mai, o almeno possibile. Ma le cose buone hanno bisogno di tanto lavoro. Assolutamente sì, mi faccio portavoce della raccomandazione dell'assessore Giannini, attenzione a come viene compilato il modulo per entrare in graduatoria. E mettete la firma, perché un sacco di domande vengono poi respinte perché vi dimenticate di firmare o di allegare i documenti. Mi raccomando, non fate le cose in modo sommario, cercate di farvi seguire da qualcuno se avete qualche timore di non farcela da soli, ma fate le cose per bene perché altrimenti rischiate di perdere un diritto ad una cosa così importante per un non nulla. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Sono Alessandra. Buonasera, è il nostro poeta. No, volevo dire, al sindaco di Bari, come mai il Presidente Scrittulli nella giornata mondiale della poesia, il 21 marzo, che è l'inizio della primavera, da due anni mette a disposizione la provincia per i poeti della Valvisia a Bari, quindi la 24 ore sulla poesia. Invece lei, signor Sindaco, più volte invitato, anche nel lunedì letterale della Valvisia, non si è mai presentato. Evidentemente lei non ama Calliope, la musa della poesia. Arrivederla, signor Sindaco, e buona giornata. Grazie, riederci. Ma veramente, onestamente, questo invito non mi è mai giunto, però può darsi che in mezzo alle tante cose che sono arrivate io non l'abbia visto, non so dire sinceramente. Mi scuso comunque se ho mancato a questo invito, ci sarò sicuramente l'anno prossimo. Sarà un'occasione per recuperare? Magari il Comune potrà organizzare un'iniziativa? Beh, poi d'altra parte, noi del centro-sinistra, alle volte quando ci parlano di poesia, temiamo che ci stiano prendendo in giro, invece vedo che questa volta si faceva sul set. No, assolutamente sì. Andiamo avanti, stiamo dicendo che entro fine mese sarà pronto il bando per affidare la gestione a privati della spiaggia cittadina di Torre Quetta. Ricordiamo che di questa iniziativa se ne aveva parlato già nell'anno scorso, poi i tempi erano troppo ristretti e non se ne fece più nulla, quest'anno invece si affiderà ai privati, però cerchiamo di chiarire, l'accesso alla spiaggia resterà libero, non si pagherà. Ecco, questo lo chiariamo. È solo un modo per cercare di risparmiare un po' di soldi, ci saranno dei privati che assumeranno la gestione dei chioschi, degli ombrelloni, delle sedie, insomma cercheranno di tenere in piedi un po' di attività economica in modo tale che il costo della manutenzione del verde e della spiaggia e della sua pulizia sia inferiore per il comune, ma la spiaggia rimane una spiaggia aperta a tutti. Ricordiamo anche che il costo della manutenzione è notevole, credo sulle 300 mila Euro si aggirano Per i soli tre mesi d'estate, sono 4 chilometri quasi di spiaggia. Che pesa sulle casse di palazzo di città, soprattutto con i tagli imposti dai trasferimenti Bari ha 42 chilometri di costa, la pulizia delle coste costa un'enormità, alle volte noi diamo per scontato, per esempio, che un vigile in più sia gratis, che pulire due volte, fare due turni di polizia dello stesso posto sia gratis, tanto c'è l'AMIU e qui rientriamo un po' nel concetto di quando i bambini, tu gli dici non ti posso comprare questo giocattolo e lui ti risponde, ma andiamo al Bancomat, senza sapere che da qualche parte i soldi devono venire fuori. Noi dobbiamo fare in modo di far quadrare sempre i conti e devo essere sincero, ci stiamo riuscendo bene perché abbiamo presentato il rendiconto del 2011 con l'assessore Giannini e Bari è una delle città sotto il profilo economico e finanziario meglio amministrate d'Italia, abbiamo rispettato il patto di stabilità, abbiamo tenuto alta la spesa per i servizi sociali, abbiamo risanato tutte le aziende, adesso peraltro la legge ci obbliga a valutare l'ipotesi della cessione di una parte del capitale di queste aziende pubbliche e noi lo potremo fare avendo delle aziende sane che potranno essere vendute sia pure nel 40%, non integralmente, al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto?